Il Dio Internazionale di Hiendegrande, il primo ottobre, è stato fatto anche con il capo del Ministerio di Inseianza, che è parte di Lifelong Learning. Abbiamo fatto una charla, un workshop per, non si chiamano 60 Plusers, che ci ha offerto certe informazioni e guia per un tablet, che trovi qualche tipo di tablet, sia un laptop o un laterale di tablet, che non hanno l'operazione, e, in particolare, con la Biblioteca Nazionale, molti hanno diversi partenari che ci sono presenti, con una informazione che ci ha fatto con il gruppo di 60 Plusers. Lo che ho spiegato nel primo comienzo, è che, per esempio, noi ci sono stati con le tecnologie di Rondina, ma è natural. Quindi parte il processo di signare, più e più tecnologie, è molto più normale. Però anche con noi, la generazione, e la generazione che è più grande, anche il signo è qui, è molto più specifico, e fare un'altra cosa che mi ha messo, se mi vuole subire in un'online banca, se mi vuole usare un commento su Facebook, per voi, e altre cose che mi vuole usare un'online banca, e che è stata dipendeva che informazione ci può offrire il gruppo qui, sicuramente non è valioso per notare. Grazie a tutti.